Ieri ha detto di voler la finale col Chelsea, domani c'è il sorteggio. Io non l'ho detto. Le piacerebbe, diciamo, per i tifosi del Napoli. Mi piacerebbe a tutti, ho detto, e credo anche al Chelsea e a Sarri in particolare. Ma domani chi è che non vorrebbe dal sorteggio, se ce n'è una? No, no, dobbiamo accettare il sorteggio, speriamo che il sorteggio sia un po' più benevolo rispetto al sorteggio che abbiamo avuto nel gruppo di Champions.